Tour de force da parte della Giunta per l'approvazione del bilancio che avverrà nei primi giorni della prossima settimana. I conti tornano, ha detto il Sindaco, che esclude l'aumento delle tasse, ma le emergenze sono tante, quindi necessitano delle entrate irreperibili, ad esempio con la lotta all'evasione o il recupero di multe non pagate. Rispetto ad altri comuni, ha precisato quello di Fanno a una media molto bassa di sanzioni. Il primo cittadino stamattina ha annunciato anche l'installazione di telecamere di videosorveglianza alla stazione ferroviaria di Fanno. È arrivato infatti il nulla ossa da parte della Commissione della Prefettura, la quale ha suggerito di installarne altre, una o due all'anno, nei punti strategici, e quindi quelli di entrata e di uscita dalla città, come a Gimarra e a Sant'Orso. In questo modo potranno essere colti in flagranza di reato coloro che non rispettano il codice della strada. Inoltre, grazie ai 20.000 euro ottenuti dalla Regione, in collaborazione con le forze dell'ordine, si sceglieranno telecamere all'avanguardia, le cui immagini possano essere utili alle indagini investigative. Durante la conferenza stampa, poi, si è riaccolto l'occasione per condannare il gesto compiuto dai vandali in zona Sassonia. La scorsa settimana, infatti, era apparsa una scritta, sfondo anarchico, che imbrattava l'anfiteatro Razzat. Frase poi ripulita a titolo volontario da regresso arti. Il sindaco ha rinnovato il ringraziamento nei confronti delle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro che svolgono ogni giorno.